Buongiorno amici, eccoci a un'altra pillola di Bait Guru dedicata alle vostre richieste sugli ingredienti. Nel libro Boily istruzioni per l'uso e in diverse ricette presenti sul blog del sito www.thebaitguru.it vengono nominati i liquori aromatizzati, alla frutta, alla crema, eccetera eccetera, come utili ingredienti per dare gusto all'esca. Allora parliamo di questi prodotti. L'industria della pasticceria sfrutta da sempre quelle che vengono chiamate basi alcoliche per dolci. Si tratta sostanzialmente di liquori a bassa gradazione alcolica, ci aggiriamo attorno al 20-30% di alcol in cui sono disciolte delle essenze artificiali o naturali aromatiche. Si possono trovare liquori speziati, liquore alla cannella, liquore al teperoncino, cremosi, il Bailey, tanto per citarne uno su tutti, il Vov, che è un buonissimo liquore a base di tuorlo d'uovo e essenze aromatiche, così come il liquore alla fragola, il liquore alla banana, eccetera eccetera eccetera. Ci sono linee più o meno professionali. Un'azienda che io ho usato molto per fare esche da carfishing è Boils. Boils, da non confondere con l'omonimo Rolling Service, che fa esche eccezionali ma non usa i liquori. B-O-L-S, Boils. È una marca professionale utilizzata dai bartender. Questi sono liquori molto aromatici, molto gustativi, che servono proprio per dare gusto ai cocktail. E quindi si trovano in tantissime varianti di gusto, dal cocco alla banana, alla fragola, alla pesca, al mango, la banana, eccetera eccetera eccetera. Sono liquori commercialmente interessanti perché non hanno un grandissimo prezzo al litro. Si parla di decine di euro. Insomma, mi pare che la bottiglia da 750 ml costi mediamente fra i 7 e i 13 euro. E si tratta di veri e propri aromi. Così come possono esserci tutto un insieme di altri liquori che invece sono proprio realizzati mettendo in infusione la frutta nell'alcol. Liquori di mirtilli, di lamponi, di ribes, in genere di frutti rossi. Ecco, la cosa importante da capire è che la gradazione alcolica è fondamentale. Siccome l'alcol se ne andrà durante la cottura, evapora proprio, minore è la concentrazione alcolica, maggiore la quantità di sostanza aromatica che resta nell'esca. Un liquore al 90% di alcol evapora, non resta praticamente niente, resta quel 10% di sostanza. Un liquore al 25% di alcol mi lascia il 75% di impronta gustativa dentro nella bolly. Sono ingredienti molto interessanti per creare attrazione secondaria, cioè imprimere un gusto permanente e persistente all'intera esca. Vengono, per questo motivo, dosati in quantitativi superiore all'aroma di sintesi, che spesso accompagnano e rinforzano. Quindi in genere si parla di dosaggi che vanno dai 20 ml a salire fino anche ai 50-60 ml tranquillamente, e non vi è un vero rischio di sovradosaggio anche andando oltre, se si vuole proprio creare delle palline con un gusto persistente e duraturo. Dicevo che l'alcol è il veicolo che trasporterà i segnali aromatici all'interno dell'impasto e aiuterà ad amalgamare, ma già impastando, poi coccendo e poi asciugando le bolly, se ne andrà quasi il tutto. Questa è la fine che fa anche l'alcol degli aromi in alcol. serve, evapora, perché è molto volatile, e trasporta all'interno del mix le sostanze aromatizzanti che vi sono disciolte dentro. Toglietevi dalla testa che un aroma in alcol o un liquore aromatizzato sia particolarmente valido in inverno, perché l'alcol è estremamente solubile in acqua. Anche il glicole lo è. Il glicole non evapora, rimane fissato nella pallina e la mantiene idratata, coadiuvando quella iperidratazione dell'esca che favorisce l'uscita delle sostanze attrattive. Quindi non è per quello che si usano. Si possono usare in acqua fredda come in acqua calda. Si utilizzano per la semplicità e per la forza, in termini aromatici, che possiedono. Il liquore alla banana può essere messo in congiunzione con un aroma alla banana, dove con 20-30 ml di liquore e 5-6 ml di aroma riesco ad ottenere quella persistenza di gusto e intensità simile alle migliori ready-made. Ora, questo non significa che un'esca molto gustativa, molto aromatizzata, è meglio di una non aromatizzata. È il campo di utilizzo, cioè il modo con cui io pesco, che determina l'efficacia di un'esca oppure di un'altra. Un'esca, senza alcun tipo di aromatizzazione e gusto, può pagare moltissimo quando la sua attrazione è totalmente naturale, come nel caso delle ultime ricette che ho postato nel blog Total Krilliver, Total GLM, che si basano non sulla chimica dei liquidi, sostanzialmente, ma sulla chimica delle farine utilizzate. Ma è anche vero che la ready-made classica, e io faccio sempre riferimento alla famosissima Tutti i frutti della Riccior, che altro non era, perché è una pallina di un buon 50-50, molto ben aromatizzata, con un aroma di gran qualità. Ecco, nessuno può negare che questa pallina per 30 anni abbia catturato carpe in tutte le acque. Diciamo che l'utilizzo del liquore aromatizzato è soprattutto dedicato alla creazione di palline molto rapide da pesca. In genere le palline molto rapide da pesca non vengono create per essere stimolanti nello specifico per il target fish, ma, prendendo l'accezione più ampia del termine, sono esche facilmente recepite e reattive sulle carpe in genere. Sono le esche di chi, sostanzialmente va a pescare due o tre orette, sono le esche di chi fagare e quindi in determinati ambienti spinge sul gusto, magari in una versione della Boily stessa, che è impastata con poche uova e molti liquidi, affinché si possa sciogliere in poche ore in acqua. Abbiamo detto che esistono molteplici varianti, dagli speziati ai cremosi, passando per una ampia gamma di fruttati. Non c'è nessuna correlazione fra usare un aroma fruttato e usare un liquore aromatizzato alla frutta, o utilizzare un aroma fruttato e un liquore alle spezie, o utilizzare un liquore cremoso e un aroma alle spezie, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutti giochi di estro e fantasia che creano connubi di gusto che solo la pesca ci dirà se sono più o meno graditi ai pesci che abitano in un determinato ambiente, perché da un ambiente all'altro cambia l'acqua e cambiano a volte anche le dinamiche con cui le palline lavorano in acqua e cambiano anche i gusti dei pesci ivi residenti. Fra tutte le scelte, quella diciamo più attrattiva barra gustativa barra nutritiva, è il VOV che ho menzionato all'inizio. Un liquore realizzato col tuorlo d'uovo che è un concentrato di nutrienti, proteine e grassi sostanzialmente, di elevatissimo valore biologico, che viene enfatizzato, come potete leggere nella lista degli ingredienti, da aromi naturali, che sta per naturali identici, che quindi ci permettono in un unico prodotto di avere un liquid food aromatizzante a disposizione che basta da solo a creare un bel carattere gustativo in una Boily Natty, per esempio, in una Boily Beer Food Mix, o in un semplicissimo Boily Mix 50-50 da caccia veloce. Ok? Alla prossima!